5 curiosità folli via nel 2017 in islanda è stato realizzato un grande fratello sui gatti intitolato keeping up with catarshan i gatti di questo reality show provenivano da un rifugio per animali potevi osservarli 24 ore su 24 in diretta streaming la foto che state vedendo contiene un milione di colori il tipo di musica che ascolti può farti cambiare il modo in cui vedi il mondo uno studio ha dimostrato che un essere umano prova più empatia verso i cani che verso altri esseri umani in giappone in passato era comune per le donne giapponesi annerirsi i denti venivano considerate più attraenti grazie